Sant'Antonio di Contaldo, mamma mia quanto fa caldo, Santa Teresa di Gesù Bambino ci voleva proprio un buon crodino, San Ferdinando di Cornovaglia ci voleva proprio un bello cappello di paglia no, la chiesa aperta stai, quasi quasi ci stai lo prete, mi confesso no, stai proprio, emittenza, lo pesco, non mi confesso doido emittenza, vorrei confessarvi eh Giuseppina, è paro paro questo caldo da confessare beh, mi sento e mi sento, 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 mi sento va bene, bene, vieni, confessati grazie grazie, grazie senta, senta sì, 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 allora E così dico i confessi? E c'è voi? Metti del uvelo, no? Vedati, figliola, vedati. Ma non è più l'escusa, mi senta. Vedati, siamo un luogo di culto. Ma buona? Di pizzo e di... Sangallo. Ah, bene. Allora, dimmi, figliola, cerchiamo di capire quali sono le circostanze e le attenuanti dei tuoi peccati. Dimmi che ti ascolto. Tieni tempo. Fino a quando ti commesso? Sì. Ehi, ehi, basta. Basta che hai giù capito la situazione, come vai mamma, dimmi, santimia. Allora, figliola, senti una cosa. Adesso, se davvero sei pentita, per penitenza di Trevamaria dammati alla Madonna. Va bene. Vai. Grazie. E mi pensa. Vai. Allora, vai. Giuseppina, ha sbagliato Madonna. È una felicità. È sconchita. È sconchita. È sconchita. Oh, oh, c'è mittenza, è sparita la Madonna Oh signore Non, la Madonna è sparita, Cristo d'asta, c'è di più signore Scusami, com'è che è sparita la Madonna? Santa Maria Immacolata La Madonna va ristaurata Santa Maria del Giardino A malapena si vede il mammino Santa Maria degli Eremiti La Madonna manco si vede Santa Maria dei Ricordi Eh, a qua servono piccani sordi Maria, regina dei Santi Eh, che erano, contribuiscono tutti quanti Eh, Madonna, che tendi la mano Facci una cosa ancora, qui ti durano Eh, vogliamo spicciare la litania Ciò, prendiamo lui un caffè, già la servo spiata Andiamone C'è frisco qua il... Madonna mia, torna C'è chi si aspetta a te Perpetua, il caffè non troppo diabetico, sai? La chiesa della Madonna del Giardino Sita a Tuturano nella provincia di Brindisi È un edificio di culto risalente al 1200 Ma riedificata nel 1598 Al suo interno vi è un affresco situato Sull'altare destro, risalente al Medioevo Che rappresenta la Madonna con il bambino Purtroppo, ora versa in pessime condizioni E necessita di un urgente restauro Ah, è ritenza Luca Pia era favorito Ma Tuturano, l'hai capito? Caramacone non va ristaurata Speriamo che si vintra una mano in paura Speriamo Dona anche tu, prima che sia troppo tardi Speriamo